ho fatto una scemenza no 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 i dodo sono gli unici animali che non si arrabbiano se gli rubi le uova comunque ciao a tutti ragazzi sono ceo fisici e questo oggi siamo qui in questo nuovo video di pixar nel scorso episodio abbiamo fatto un casino perché ho preso un nuovo dipteranodonte non l'avessi mai fatto migliaia di pteranodonti da tutto il mondo sono accorsi a disintegrarmi la casa i miei amici tutto il resto adesso come potete vedere sto finendo di domesticare questi altri qui e devo prendere i dodo per il nido che abbiamo messo lì nello scorso episodio maledetto uovo guarda addio addio per sempre proprio non ti voglio mai più vedere stupido di un uovo del cavolo seppellito lì per l'eternità poi quando saprò come si craftano ci metto un cartello qui già c'è l'uovo maledetto e 2 perfetto vediamo un pochino come funziona si e vai uno c'è e l'altro non hanno già ripostare uno solo oppure perché questo è il maschio non lo so non vedo vieni qui via ok vediamo un po pk e si forse era troppo distante se la posso fare via ok vediamo un po' ah no perché il maschio ci possono stare solo il dodo femmina produce egg allora questo qui produce uova guardate com'è felice tra l'altro lentamente vedi se c'è il dodo questo qui invece se ne sta qui fuori perché è un maschio quindi non può stare lì quindi stop quest'oggi quindi oltre a fare questo andremo col pteranodonte che è questo qui con la sella livello 13 aspetta non la posso mettere su uno no tanto sono tutti di grado così andremo un po' all'esplorazione volevo prendere un veloci raptor ma ancora non l'ho trovato aspettate che devo mettere un po' in ordine le ceste ok ora che tutto ok e che la sella è buggata possiamo partire all'avventura i nostri dodo li continueranno a divertirsi io voglio andare a vedere se qua ci sono i veloci raptor perché questo qui potrebbe prenderli forse o forse solo i dinosauri più piccoli ce n'è uno ok allora attuiamo il piano malefico io un po' se riesco a pigliarlo no 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 non attaccare dove passivo passivo passi ma seguimi non stare lì a morire è morto stupido veloci raptor adesso te la faccio pagare capito vieni qui ti porto nella trappola della morte corri via 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 mi sta seguendo si 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 è come ok dove la trappola è dall'altra parte del fiume del fiume ok c'è dietro di me non vedo e no se distratto uffa ok però se la stavo facendo no 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 sta arrivando via 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 perché così vai vai ok ok ci sono speriamo che mi sta seguendo sì ok però lui non mi sta seguendo dai pensavo che fosse dietro di me forse si è addormentato dove è andato dove sei sul ferio dove dove è si è addormentato in acqua ho forse caduto lì sotto mentre non guardavo può essere andiamo a vedere magari la trappa ha funzionato fin troppo bene però mi ha ucciso il cavolo di pterano c'erano altri due a casa però uffa non sembra che sia finito di sotto io sì però e dai allora ragazzi per prima cosa mi accerto che il brotiraptor non sia qui e infatti non c'è per fortuna tu devi seguirmi e stare passivo perché sennò fai la fine del tuo amico del tuo stupido amico ora andiamo a cercare quel cavolo di dinosauro guardalo il maledetto vieni qui che ti ciappo non lo posso prendere ok 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 però noi vogliamo e lui no mi ha quasi ammazzato ok vieni vieni sì procedi no nota che la tartaruga ninja che ti ammazza ecco il nostro raptor è già morto eh gli devo dare una mano ma magari ce la fa eh non so io sparo levati te momia che blocco di carne non ci credo ha vinto scappa 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 vieni ho colpito anche l'opteranodon nel fare cose a caso vieni bravo procedi sì guarda qui che bel burrone vieni vieni burrone vieni burrone olè preso ok ora tu stai qui e sopravvivi ok e non fare stupidaggi e io sparo quello che è là sotto eccolo lì ma che ti ho detto di non fare stupidaggini invece mi sposti la mira che c'ho sei frecce soltanto ok eccolo là sarà un casino farlo uscire se riesco a prenderlo sei bloccato è di livello 9 quindi non credo che ci vorrà molto beccato ok ora avevo fatto un sentiero per scendere ma mi sono dimenticato dov'è quindi tu stai fermo anzi è vero non c'ho te perché dovevi usare il sentiero ok perfetto però prima devo prendere un po' di carne giusto ah ma il carne ce l'aveva anche lui ok ok bene allora il nostro stupido amico è bloccato là sopra quindi faccio una scaretta per arrivarci e gli diamo il cibo ok perfetto a questo punto devo soltanto aspettare e vedere se posso fare la sella no raptor è livello 30 livello 30 ma figurati io non sono di livello 30 non posso neanche fare le cose di coppia perché serve il livello 24 sono livello 23 però ok devo fare un sentiero per salire quindi ci vediamo dopo ok ok Sì Ok ragazzi è stata un'impresa epica Nel senso che è stata difficilissima Ma alla fine sono riuscito a tirarlo fuori da quel buco del cavolo Speriamo Che sopravviva almeno Con tutto il casino che ho fatto per pigliarlo La sella ancora non la posso fare Ma dovrebbe essere ottimo per difendermi Allora facciamo un esempio Qui c'è un bel uovo di pacchetti a farofauro Ma io non lo prendo mica Perché se lo prendo è l'apocalisse Facciamo un esperimento tipo contro questo Allora Stop tutti Attack this target Ok E Sì comunque sono in tre che l'hanno attaccato Ma comunque sono abbastanza potente Come potete vedere Abbiamo il nostro bel Veloci raptor adesso Vediamo un pochino se la nostra Al nostro allevamento qui di dodo Ha dato i suoi frutti E No Non ha dato nessun frutto Forse perché queste l'hanno messo qua Forse ci va messo il dodo qua Allora Eh no Non lo so Quindi Il assunto Oltre che sono bloccato qui con questo idiota Levati Mettiti Non saprei Quindi ragazzi Per oggi è tutto Nel prossimo episodio Faremo gli oggetti di metallo Dovranno salire un po' di livello Perché ancora non li posso fare Comunque abbiamo il veloci raptor Che adesso si protegge alla base Da questi idioti E noi ci vediamo al prossimo video di Pixar Ciao a tutti Ciao a tutti